Renatigna manda in paradiso il Bitonto che si qualifica alla finale scudetto del campionato di calcio a 5 femminile dopo una gara incredibile contro Falconara. Da una marchigiana a una abruzzese, domenica prossima si comincia Montesilvano contro il Tikitaka Francavilla Mare, ancora con il fattore campo a disposizione in gara 2 ed eventualmente in gara 3. Quella del Palapanzini contro Falconara non è stata una gara adatta ai deboli di cuore, Bitonto avanti 2 a 1, poi sotto 2 a 5, capace di agguantare il 5 a 5 nei minuti finali e poi di vincere dai supplementari con una Renatigna fuori dal comune. La cronaca parte proprio dal 2 a 5 a 6 minuti dal termine, sembra tutto finito, quando la brasiliana di sinistro trova il 3 a 5 che riapre le speranze. Poi con un gran colpo di tacco riduce ancora le distanze e infine la pareggia a 50 secondi dalla sirena con un tiro sotto il 7. Da lì comincia un'altra partita, nei supplementari il destro di Diana Santos segna il sorpasso e il gol del 7 a 5 finale di Renatigna servita direttamente da Castagnaro chiude i giochi. Al suono della sirena esplode la festa, Bitonto è nella storia e domenica proverà a scrivere un'altra pagina indelebile.